Volete votare candidati di liste diverse? Non c'è nessun problema, è più semplice di quanto pensiate e avete più possibilità. Per il nostro primo esempio partiamo dal presupposto che vogliate votare una lista e un candidato da un'altra lista. Per prima cosa prendiamo la scheda che vi ho mostrato poco fa. Come vedete abbiamo un problema. Nella scheda non c'è lo spazio per inserire un altro candidato visto che ogni cantone ha diritto a un numero limitato di seggi in consiglio nazionale. Il numero di seggi è proporzionale al numero di abitanti del cantone. Questa scheda per esempio conta otto candidati dato che il cantone in questione ha diritto a otto seggi. Per prima cosa dobbiamo dunque fare spazio eliminando un candidato. Poi non ci resta che inserire numero, nome e cognome del candidato dell'altra lista. Il numero del candidato lo trovate qui nella lista dell'altro partito. Può darsi che qualcuno di voi voglia apportare ulteriore modifica ad una lista, ad esempio sostenendo un candidato in modo particolare. Cancellate allora il nome di un altro candidato. Eliminiamo ad esempio Pierre Patrice Persson di Partout e sopra di lui scriviamo violina votante senza dimenticarne di indicarne il numero. Ora facciamo un rapido controllo per verificare che sulla nostra lista non ci siano più di otto candidati. Perfetto! La nostra candidata conta doppio perché figura due volte. Non ci resta che mettere la scheda nella busta più piccola e chiuderla. Firmare la carta di legittimazione e mettere la carta di legittimazione assieme alla busta più piccola nella busta più grande. Fatto!